Siamo rammaricati perché secondo me abbiamo fatto una buona gara, purtroppo se non fai gol è dura, è dura perché poi fino al rigore secondo me siamo stati padroni del campo e anche il secondo tempo secondo me la squadra ha fatto bene, abbiamo secondo me espresso un buon calcio però purtroppo non basta, non basta perché la classifica per noi parla chiaro, bisogna fare punti, sicuramente la squadra ha avuto un approccio migliore rispetto ad altre partite però ti ripeto non basta, dobbiamo lavorare ancora più forte perché dobbiamo uscire da questa situazione perché secondo me la squadra ha le qualità per farlo. Cosa serve? Abbiamo parlato, ci siamo parlati nello spogliatoio però secondo me le chiacchiere ormai non servono più, ormai serve lavorare ancora più forte, servono i fatti, cioè andare in campo sia durante la settimana che poi la domenica, sembrano frasi fatte, lo so, però purtroppo è così, io conosco la medicina e lavoro, lo stare insieme è più possibile cercare di invertire questa rotta perché ora è dura, lo sappiamo.